È un evento di straordinario valore per la informazione e la comunicazione del nostro Paese. Frequento il premio Ischia dal 2013, quando avevo la delega all'editoria in presenza del Consiglio. Ogni anno vengo con molto piacere. Quest'anno i motivi sono ancora più rilevanti, i valori, perché i temi che vengono evocati, trattati, affrontati in questa occasione hanno a che fare con gli effetti delle catastrofi naturali che si sono abbattute, che stiamo provvedendo ad affrontare. In Italia, come altrove, la consapevolezza è maturata. Certo, esistono ancora negazionisti, come si dice, ma credo che questo spazio si restringa sempre di più, ma non è ancora maturo la predisposizione del quadro normativo, regolatorio di strumenti operativi e finanziari per fare prevenzione, per mitigare questi rischi. Si sa, i rischi naturali viviamo in una società multirischio, si aggravano con i cambiamenti climatici che stiamo registrando e noi dobbiamo porre al centro delle politiche pubbliche un'opera di prevenzione.